Cosa che rimane aperta e che invece è necessario comunque arrivare a definire. Prego, poi si è parlato di 40 anni di discussioni, però secondo noi sono stati 40 anni di discussioni a vuoto. La scheda introduttiva diceva che ancora oggi le popolazioni dell'area del Genargento si chiedono cos'è un parco. Questo effettivamente nessuno l'ha mai spiegato. Oggi siamo qui per discutere su un vizio che ha preceduto l'attuazione del decreto istitutivo del parco, però ancora oggi le popolazioni del Genargento si stanno chiedendo che cosa è un parco. C'erano dei finanziamenti per la diffusione delle informazioni? Sì, sono stati stanziati circa 3 miliardi per l'informazione e questa informazione non è mai partita. Allora, io sono d'accordo anche con quanto diceva qualcuno, forse lo stesso Leori, nei comuni si dovevano svolgere anche dei referendum, d'accordissimo, però prima del referendum deve essere preceduto da una capillare azione di informazione che non c'è mai stata. Sì, al di là del referendum però mi pare che la posizione dei comuni fosse comunque chiara, espressa in tutti i modi, nelle forme più diverse. C'era bisogno del referendum? I comuni, intanto si sono espresse molte amministrazioni comunali, in alcuni comuni non ci sono stati neanche i dibattiti pubblici. Io ho preso parte a molti dibattiti là dove si sono ottenuti, Orgoso, Lurzulei, eccetera. E comunque in questi dibattiti era chiara l'esigenza da parte della gente di capire che cosa fosse un parco, come organizzato il territorio, come pianificato, se all'interno del parco potevano continuare ad essere esercitate le attività agro-silvopastorali, mantenuti gli usi civici. Nessuno è mai stato in grado di fornire un'informazione alla gente. Probabilmente per questo motivo ci troviamo oggi a discutere ancora delle solite cose. Sentiamo un attimo Remo Pala, perché se non sbaglio...